In esecuzione della legge 3 agosto 98 numero 269 e successive modifiche di integrazione avente all'oggetto norme contro lo sfruttamento della Costituzione e del turismo sessuale in danno ai minori con le nuove forme di riduzione di schiavitù. Questa proposta era stata proposta appunto dai consiglieri Cristina Lodi, Stefano Bernini, Alberto Pandolfo, Terrile, Villa, Crivello, Pignone, Cassibba, ai sensi dell'articolo 33,3 dello Statuto e dell'articolo 51 del Regolamento del Consiglio Comunale. Andiamo a fare appello. Presente, buongiorno. Buongiorno, Campanella. Consigliere Campanella. Cassibba. Presente, grazie, buongiorno. Buongiorno, Ceraudo. Presente, buongiorno a tutti. Buongiorno, Corso presente. Costa. Presente, buongiorno. Buongiorno, Crivello. Presente, De Benediktis. Presente. Serrero. Presente. Fontana. Consigliere Fontana. Gambino. Consigliere Gambino. Giordano. Buongiorno, presente. Buongiorno. Grillo. Presente. Immordino. Presente. Laura. Consigliere Laura. Lodi. Presente, buongiorno Presidente. Buongiorno, Mascia. Consigliere Mascia. Ottonello. Sente, buongiorno. Buongiorno, Pandolfo. Presente, buongiorno. Buongiorno, Piana. Consigliere Piana. Pignone. Consigliere Pignone. Sondini. Presente, buongiorno. Buongiorno, Putti. Consigliere Putti. Remuzzi. Presente, buongiorno. Buongiorno, Rossetti. Rossetti, presente. Presente, presente. Ok, Rossi. Presente, buongiorno. Buongiorno, Salemi. Consigliere Salemi. Santi. Presente. Terrile. Terrile. Consigliere Atini. Presente, buongiorno. Terrile presente, scusi Presidente. Buongiorno. Bacalibre. Presente, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Evilla. Salvaneschi. Salvaneschi. Presente. Sì, buongiorno. Un secondo, stiamo prima chiamando adesso i... No, scusi, ma sono perdita. Siamo finiti. Scusi. Non c'è problema, ci mancherebbe. Consigliere Villa. Allora, provo a richiamare coloro che sono risultati assenti dal primo appello. Azzalone. Campanella. Fontana. Presente, buongiorno. Campanella, mi scusi, non so se mi sente. Ok, ora la sento. Grazie, buongiorno. Fontana. Buongiorno. Gambino. Presente Gambino, buongiorno. Buongiorno. Lauro. Pandolfo. No, scusa, Pandolfo c'era. Piana. Pignone. Tutti. Presente, eccomi. Buongiorno. Ok, buongiorno. Falemi. Evilla. Ok. Sono Pignone, mi scusi, ho avuto problemi di rete. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Gli assessori che sono stati invitati sono gli assessori Viale Gaggero e il consigliere Delegato Baroni. L'assessore Viale non era, oggi non aveva la possibilità di partecipare. Dovrebbero essere presenti l'assessore Gaggero. Buongiorno, presente. Buongiorno, assessore. E il consigliere Delegato Baroni per quanto riguarda il sociale, se fosse presente. Ok, perfetto. Agli auditi sono stati richiamati, gli stessi auditi delle scorse commissioni che erano state convocate con lo stesso tema. Sono stati convocati il dottor Nalla, che è il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione, che però non aveva la possibilità di partecipare. Il dottor Guerreira, che è il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Genova di Genova, che si è collegato. Buongiorno. Credo abbia problemi con il microfono, perché non la sentiamo. Non la sentiamo, nonostante... Mi sente? Ora sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Poi c'è l'architetto Saldoneschi, presidente del Comitato Genova Unicef. Buongiorno. Il dottor Franco Cirio, Comitato Genova Unicef, è stato invitato. Non lo vedo, però, collegato. Il dottor Gabriele Rossi, che però non può partecipare per impegni pregressi della Direzione Politica e Sociale delle Migliori Famiglie. L'associazione ECPAT, non so se non ci hanno, mi perdonerete. Buongiorno a tutte e tutti. ECPAT, comunque. Molto semplice. Se l'ho messo una C in più, probabilmente. Ok, grazie. Camera di commercio, paesi ercenti, Ascom, Conscommercio, FIAVET e... Sì, sì, buongiorno. E poi tutti i sindacati, come di consueto. L'informativa è stata anche mandata ai municipi. Allora, io farò subito la chat se ci fosse qualcuno che vuole intervenire. In alternativa, se la consigliera Lodi, che appunto è la prima firmataria di questa proposta, vuole intervenire, le do la parola. Ad ogni modo, molto brevemente, questa appunto è, credo, la quarta commissione su questo tema, che andiamo a convocare. La proposta che è appunto arrivata all'analisi di questa commissione è già passata, diciamo, più volte in commissione, è già stata commentata, è già stata anche modificata e firmata da consiglieri che inizialmente avevano firmato. L'assessore aveva appunto dato il proprio parere, le proprie modifiche. Quello che mancherebbe oggi, appunto, è andare a dare l'aula, appunto, dare la possibilità a questa proposta di arrivare in aula e di essere votata dal Consiglio Comunale. Chiaramente questa commissione di oggi vuole essere un'ulteriore commissione di approfondimento, di modifica, qualora qualcuno volesse farlo. Per cui chiedo, come sempre, a tutti, se volessero intervenire, di prenotarsi attraverso la chat apposita oppure, in alternativa, se non ci fossero interventi da parte di nessuno, ci limitiamo a chiamare l'aula per questa proposta. Vedo, appunto, che nessuno vuole intervenire, né fra gli auditi, né fra i commissari. Bene, di conseguenza, sì, niente, di conseguenza, allora andiamo soltanto a chiamare l'aula. Lega Salvini Premier. Aula. Cambiamo. Aula. Italia Viva. Aula. Vince Genova. Aula. Forza Italia. Aula. Fratelli d'Italia. Aula. Partito Democratico. Aula. Lista Crivello. Aula. Movimento 5 Stelle di Genova. Aula. Chiamami Genova. Aula. Chiamami Genova. Gruppo Mito. Aula. Provo a richiamare, chiamami Genova. Consigliere Putti è collegato. A questo punto, direi che abbiamo chiamato l'aula per questa proposta, che appunto è l'adesione del Comune di Genova al codice di conduttore dell'industria turistica. ringrazio anche se in maniera breve ma intensa la partecipazione dei nostri invitati e dei nostri commissari, ringrazio il supporto degli uffici e concludiamo la commissione odierna. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti e buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Perroni.